Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata agli integratori alimentari, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace ai video che ti interessano, e commentare con le tue esperienze personali, in base agli integratori date e assunti, grazie ai suggerimenti condivisi. In questo video esaminiamo, l'integratore alimentare, Marius Teox. A cosa serve? Marius Teox ha un integratore appartenente alla categoria degli integratori di minerali. È commercializzato in Italia dall'azienda D-Fas International S.P.A. Informazioni commerciali. Titolare. D-Fas International S.P.A. Concessionario. D-Fas International S.P.A. Categoria di appartenenza. Integratori di minerali. Forma farmaceutica. Capsula. Confezioni. Marius Teox 30. Capsule 12G. Indicazioni. Integratore alimentare con proantocianidine da vitis vinifera e vitamine. La vitamina D aiuta a mantenere i denti sani e insieme alla vitamina K favorisce la salute delle ossa. La presenza della vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per l'efficienza di ossa, denti e gengive. Modalità d'uso. Si consiglia di assumere uno capsula al giorno. Per un uso ottimale del prodotto si consiglia il parere del medico. Avvertenze. Conservare in luogo fresco ed asciutto. Non esporre direttamente alla luce solare e da fonti di calore, teme l'umidità. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezione integra, correttamente conservato. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Non superare le dosi giornaliere consigliate. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata, equilibrata di uno stile di vita sano. Ingredienti. Vitamina D, vitamina C e vitamina K con proantocianidine da vitis vinifera. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento ci vediamo al prossimo, integratore alimentare esaminato.